e niente oggi facciamo le orecchiette con i broccoli che cosa ci serve per broccoli pangrattato pomodorini d'atterino dopo il filaglio sale grosso per l'olio extravergine d'oliva quindi ecco lì questo è un anzitutto perché i broccoli di stagione poi che potrebbero avere passaggi di ricchi che è super super bravo riguardo all'outfit insieme a un filo d'olio due acidine che in realtà è sempre una tecnica in realtà volevamo farne anche con questo il rosso dei pomodorini d'atterino il pangrattato scottato però è molto molto meno ecco adesso poi il pistolo vi interessa filo d'olio il risultato fattesto buon appetito ciao 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 ciao